Sì, quindici, oggi quindici due. Signori, buongiorno, ben ritrovati, dottor Manfred, buongiorno, saluto ordinare del quindici febbraio duemilaventuno, reddice trentotto, prima appello, invito il segretario a chiamare l'appello. Sì, buongiorno presidente. Arei su. Assente. Cannella. Assente. Di Muli. Presente. Maraventano. Assente. Nona. Assente. Vernice. Assente. Signo. Assente. Susinno. Assente. Tumbarello. Assente. Valenti. Assente. Presenti uno. Ho dato l'assenza del numero legale, il presidente chiudo la salute lo rinvia alle undici a trentotto. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Grazie.